Ciao amici di 365 Mountain Bike, oggi siamo al Monte Maddalena, nel Bresciano, a provare la nuova Transition Patrol 27.5 da enduro. Abbiamo una bici molto aggressiva, 170 di escursione all'anteriore, 160 al posteriore, una geometria estrema, 64 gradi di angolo sterzo e coadiuvata dalla nuova geometria Transition Speed Balance Geometry. Cazzo che rake! Questo è il rake cortissimo, 37 mm, che consente di allungare il trail caster, avere stabilità, ma non perdere in maneggevolezza. Questo è un po' il concetto che ha portato Transition come innovazione. Invece al posteriore abbiamo una curva di compressione molto regressiva fino al Saga, infatti sente molto plush, molto morbido. No! Il rake ha 37 mm! Non ci posso credere! No! Cato vai, bella! Vai zio! Tornando a noi abbiamo una curva di compressione regressiva fino al momento di Saga e poi una progressività molto più controllata e più equilibrata rispetto alle vecchie Patrol che scalciavano molto, quindi una bici che dà confidenza e che permette di spingere forte fin dalle prime curve.